Tom, il carro attrezzi Ehi, Gerry l'auto da corsa! Ciao! Sei pronto per la grande gara? Uhuh! Sei troppo veloce! Sono sicura che vincerai questa gara, Gerry! Vai, supera lì, Gerry! Oh oh! Che cosa è successo, Gerry? Stai bene? La grande corsa è tra poche ore! Non preoccuparti, possiamo sistemarti! Aspetta qui! Voglio chiamare Tom il carro attrezzi! Lui ti può aiutare! Ehi, Tom! Giornata lunga, eh? Ehi, ascolta, Tom! Gerry l'auto da corsa è in difficoltà e la sua grande gara è tra poche ore! Ha bisogno del tuo aiuto! Grande, Tom! Sei un eroe! Vieni, troviamo Gerry! Là, Tom! Gerry è là che ti sta aspettando! Oh oh! Attenzione, Tom! Ehi, Gerry! Tom è qui! Possiamo andare! Tutti al garage! Sei pronto, Gerry? Pronto, Tom? Allora, cosa facciamo per prima cosa, Tom? Sì, hai ragione! Per prima cosa cambiamo le gomme! Beh, alla velocità a cui devi andare, non c'è da meravigliarsi che le tue gomme siano usurate, Gerry! Vediamo quali gomme hai per Gerry! Andranno bene queste, Tom? No? Ah, giusto! Sono decisamente troppo piccole per Gerry! Che ne dici di queste? Sì, queste sono delle gomme da corsa perfette per Gerry! È ora di sbarazzarsi delle vecchie gomme! E di installare quelle nuove! E... Abbiamo finito! Hai un aspetto fantastico, Gerry! Nient'altro, Tom! Oh sì, il sedile! Sembra molto logoro! La, Tom! Andrà bene? È tempo di avere un nuovo sedile! Non è emozionante, Gerry? Gerry sembra così contento! Oh, guarda che vecchio alettone posteriore, Tom! Penso che ne abbiamo uno migliore da qualche parte in garage! Dunque, quale colore pensi stia meglio a Gerry? Quello rosso a strisce nere? Ottima scelta, Tom! Wow, Tom! Gerry sembra perfetto ora! Come un vincitore! Che cosa c'è, Tom? Oh, fantastico! Un nuovo adesivo da gara! Gerry ne ha assolutamente bisogno per la sua corsa! In bocca al lupo per la gara, Gerry! Divertiti! Che cosa c'è che non va, Frank? Hai un problema? Chiamiamo Tom, il carroattrezzi! Lui saprà come aiutarti! Tom, il tuo amico Frank è nei guai! È necessario che tu vada a soccorrerlo! Oh, oh! Frank non è qui! Che sia laggiù? Guarda, Tom! Abbiamo trovato Frank! Dobbiamo aiutarlo! Altrimenti la città non sarà più protetta dagli incendi! Ciao, Frank! Sei salvo ora! Tom sta per aiutarti! Perfetto! Torniamo al garage! Ok, Tom, pronto a riparare il camion dei pompieri? Cominciamo allora! Prima di tutto, cambiamo la griglia frontale! È tutta rotta! Wow, come stai bene ora, Frank! Che si fa dopo, Tom? Naturalmente, Tom, cambiamo le ruote! Ce ne servono sei! Quindi, che pila di ruote dobbiamo prendere? Sì, giusto! Eccellente, Tom! Oh, c'è un buco nel serbatoio dell'acqua! Dobbiamo ripararlo, Tom! Ehi, Tom! Che cos'è quello? Hai intenzione di chiudere questo buco con questo saldatore? Stupefacente, Tom! Sì, Tom? Hai qualcos'altro per noi? Dai! Fantastico! Una nuova scala! Ah, hai bisogno di una nuova luce, Frank! Tom, si può fare qualcosa a riguardo? Eccellente, Tom! Alla prossima, Frank! Tom, svegliati! Hai una chiamata! Sì, sembra che Matt, l'auto della polizia, sia in difficoltà, Tom! Andiamo ad aiutarlo! Ma dov'è Matt? Matt, riesci a vederlo? Forse è al parco giochi! No, non è neanche qui! Guarda, Tom! Lo abbiamo trovato! Andiamo a prenderlo! Ciao, Matt! Non ti preoccupare! Tom è qui per aiutarti! Perfetto! E ora, torniamo al garage! Con cosa cominciamo, Tom? Ottimo! Cambiamo il motore! Rimuoviamo quello vecchio E lo sostituiamo con quello nuovo Vedi un nuovo motore per Matt, Tom? Quello sembra perfetto! Che altro dobbiamo fare, Tom? Hai ragione! Cambiamo le ruote! Per cambiare le ruote abbiamo bisogno di sollevare Matt un pochino Quali ci servono? Queste? Hai ragione! Sono troppo grandi! Forse queste? Hai ragione! Queste sono ruote di bicicletta! Queste ruote sono perfette! Andiamo a cambiare le ruote! Cosa c'è, Tom? Ma certo, Tom! Un nuovo lampeggiante per Matt! Che idea eccellente! Wow, Matt! Sembri nuovo di zecca! Arrivederci, Matt! Alla prossima! E che lavoro incredibile, Tom! Ci vediamo!